Amici di Player Inside, siamo ritornati qui con un quiz, quiz con un qui, che, perché stiamo cringissimi, ma una bruttissima, solo per questo ragazzi lascerei il video, ma comunque, va bene, fate voi, insomma, volete proseguire, comunque, sui giochi PlayStation, sulla storia dei giochi della prima PlayStation, è un quiz sulla prima PlayStation. Esatto, quindi boomerissimo. Ragazzi, da quello che abbiamo intravisto così, at a glance, sembra piuttosto di frigirotto. Ora vediamo, ragazzi, vediamo un po' di mettere alla prova la nostra memoria della prima PlayStation. Quanti, e dico quanti, signori, giochi di Crash Bandicoot sono usciti su PlayStation 1? Allora, se includiamo anche Crash Bash e Crash Team Racing, chiaramente sono 5, perché 1, 2 e 3, Warped Air è il mio preferito, più questi due, quindi direi 5. Però bisogna vedere se intende soltanto della serie principale, quindi sono 3. Però siccome dice Crash Bandicoot Games, noi, sulla buona febe, rispondiamo 5. Poco è poco chiara sta cosa. Poco chiara, complimenti del quiz di me. Quale di questi giochi di combattimento era un titolo di lancio? Allora, tra questi io dico Battle Arena Toshinden, perché ce l'aveva 3 titoli di lancio, loro hanno messo però un'immagine di Tekken 3, che tra l'altro Tekken 3 non poteva essere un titolo di lancio. Sì, sì, Tekken 3, giusto. Ma non lo era nemmeno Tekken, ragazzi, era Battle Arena Toshinden, un gioco che a me non piaceva, sinceramente. Beh, sai, era un po' particolare, tra l'altro, sì, era anche un po' più tecnico. Sì, era un po' confusionare, però ragazzi, io ero una bambina, dovete capire anche questo. No, no, poi Tekken è stato amore a prima vista e mi ricordo Tekken, la prima volta che lo giocai, il primo, ero in una sala giochi a Rimini e pensavo, questa è fantascienza. Vero. Questa non esisterà mai una cosa meglio di questa, mai. L'originale Metal Gear Solid, che è uscito nel 1998, in quale anno era ambientato? 2005? 2005 in America, sì, esatto, negli Stati Uniti d'America nel 2005. Era un futuro non poi così remoto, no? Era un futuro prossimo. Includendo i remake, quanti Final Fantasy numerati sono usciti su PlayStation 1? Attenzione perché questa è difficilotta, perché significa, allora, i Final Fantasy... Allora, sono usciti, allora, 7, 8 e 9 e va bene. Poi c'è stato Final Fantasy 6, che era uscito a parte, poi Final Fantasy Origin, che includeva l'1, 2 e il 3, e poi l'anthology che era 4 e 5, 9. Secondo me è un trablocchetto, perché 9 sarebbe troppo facile, che 9, si è fermata Final Fantasy 9, la prima PlayStation, non 8. Allora, facciamo 8 perché secondo me in Origins qualcosa non c'era. Mancava, sì, facciamo 8, dai, ok. Chi erano gli sviluppatori di Wipeout e Destruction Derby? Tra questi mi pare segnosi. Segnosis, assolutamente segnosi. Team storico, ragazzi. Sony Computer Entertainment, all'epoca aveva fatto Twisted Metal con David Jaffe. Qual era la prima canzone che si poteva ascoltare in Tony Hawk's Pro Skater? Allora, vi dico... No, ragazzi, non lo so. Un attimo, questo è un attimo. Millen Collin, Millen Collin, No Seager, che era dall'altro bellissima, era in Tony Hawk's Pro Skater 2. Così come, credo, almeno un'altra tra Dub Pistols e Power Man 5000. Io ti direi Goldfinger Superman, ma non è che me lo ricordo perché io Tony Hawk's Pro Skater 1 non l'ho mai giocato, ho giocato solo il 2 e il 3. Comunque, Goldfinger Superman. Ci buttiamo. Ci buttiamo. Gabe Logan, che ci segue sempre in live, anche qui sul sito, ciao Gabe Logan. Comunque, io direi assolutamente sentient. No, scherzo, è Seiphone Filter. Ovvio. Tra l'altro un'aneddota a tal proposito, attenzione. L'aneddoto di Raiden... Questa era la madonna. Seiphone Filter. Mi ricordo che all'epoca io leggevo PlayStation Galaxy, che era una rivista di merda, 13 pagine, però era bella, era accattivante perché ti davano gli adesivi per la PlayStation. Bruttissimi, una volta gli ho messo uno dei Rugrats, ma penso di che era, non lo so, è che era un coglione. E c'erano vari poster, eccetera. Dentro c'erano anche tanti aneddoti cringe. Aneddoti? Aneddoti cringe. Per esempio, per quanto riguarda Seiphone Filter c'era, attenzione, c'era proprio un riguardo, un trafiletto, attenzione a ordinarlo di importazione. Perché potrebbe arrivare, se non sapete bene l'inglese, vi potrebbe arrivare a casa un sifone dell'acqua. Eh, no, io sono scemo, no? Cioè, ordino Seiphone Filter in un negozio di videogiochi e mi arriva il sifone della casa, lo credi? Ciao amici di PlayStation Galaxy, se siete ancora vivi, comunque vi ringrazio perché mi avete fatto passare un'adolescenza bella. Quale di questi personaggi non era nell'originale Tekken? Ehiashi c'era, King c'era, Paul c'era, non c'era assolutamente Jin Kazama perché Jin era il figlio di Kazuya Mishima e Jun Kazama ed è comparso per la prima volta in Tekken 3. E ce lo ricordiamo anche per la celebre pubblicità Vule Vupatea Vecma del Rio Mare Patea, Rio Mare Snack. Una memory card conteneva quanti slot, aiuto, non mi ricordo, 25-15. O 25-15. La mia memoria include il 5. Perché non mi ricordo bene? Perché io avevo memory card fasulle. Quelle che in realtà contenevano diversi slot. Erano tipo 8 memory card in una. Comunque direi 15. Qual è stata la voce della prima Lara Croft? Vabbè ma in inglese, io ci giocavo in italiano, a parte che non mi ricordo neanche il nome di quella italiana. Però avevo una voce, madonna mia. Era bellissima, cioè di quella italiana. Anche se era un po' standardizzata, sembrava una voce, sai, una narratrice, no? Io ti direi così, visto che comunque... Angelina Giolino. No, Angelina Giolino, tra bocchette, è stata l'attrice poi molto dopo. Visto che era inglese, Lara Croft, non era americana, io direi che forse ci può stare Camilla Ludington. Ma Camilla Ludington non era la modella? Io mi ricordo qualcosa di... su Shelly Blonde. E facciamo Shelly Blonde perché questa proprio non la so. Ragazzi non la so, non posso sapere, non si può sapere tutto. Magari hai ragione tu, poi lo scopriremo. Quale auto era raffigurata nella cover dell'originale Colin McRae Rally? Allora, questa è facile e questa è tra bocchetto, vedi, dice, hanno messo la Ford lì. Però era la Subaru. Era la Subaru, questo me lo ricordo benissimo. Era la Subaru SV, detta Subaru Baracca. Quale di queste città non era presente nell'originale GTA? Vabbè, Carser City, che è Carser City? Che è Carser City? Ma che cavolo è? È l'unica che non esiste fra queste. Quale di questi franchise non era pubblicato da Konami? Cool Borders, esatto. Assolutamente, questo è Silent Hill, però non c'entra niente. Questa è mia, questa è mia. Chi era raffigurato nella cover di FIFA 99? Allora. Raiden. Allora. Perché qui c'è una cosa da precisare. Perché nella cover di FIFA 99 italiana c'era Christian Bobo Vieri. Ah, perché questo è giusto, non è quella italiana, era diversa. Ogni paese ce l'aveva diversa. Io direi che si tratta di Dennis Bergkamp, che all'epoca giocava nell'Arsenal. Rispondi, Dennis Bergkamp. Quale di questi franchise non è mai uscito su questa console? Hitman. Ah, Hitman, certo. Perché il primo, che è uscito nel 2000, però era direttamente su PS2. Qual è stato l'ultimo gioco uscito su PlayStation 1 in Europa nel 2004? Allora, nel 2004 io già avevo bello che buttato la PlayStation, nel senso nell'armadio ovviamente. Mi ricordo fino al FIFA 2001, che però era presente già su PS2 e già mi sembrava strano che ci fosse una versione per PS1. Quindi arrivare al 2005 mi sembra troppo. Guarda, ti direi, ti direi... Dancing Stage Fusion è lì, però secondo me l'hanno messo... A trabocchetto. Perché tante altre volte sono state usate come trabocchetto le immagini. Quindi uno fra Jet Haze e James Bond 2, considerando che James Bond 2, codename, robocode, era se non sbaglio di molto prima. Infatti, è vero. Quindi direi Jet Haze. Quali di questi non era un team presente e nessuno dei Wipeout su questa console? Ah, non lo so ragazzi, ma proprio... Vanuver non l'ho mai sentito. Non lo so ragazzi. Allora, non sono mai stato un grande appassionato di Wipeout. Poi ho giocato solo il 2097. Non che non mi piacesse, però sì. Ti direi Vanuver, ma così sul... Ah, cavolo. Mi pare di non ricordare un team che si chiamasse Vanuver. Chi non era giocabile né in Resident Evil 1 né nel 2? Allora, da Wong mi pare ci fosse una sezione in cui era giocabile in Resident Evil 2. Cioè non sono proprio sicurissima di questo. Nel remake sicuramente sì. Nel remake sì, però... E non è uno spoiler ragazzi, non vi diciamo quello che succede. No, vabbè no. Però mi pare anche nell'originale. Poi Jill Valentine, ah beh, la protagonista del primo, Chris Redfield del primo e Leon Kennedy del secondo. Quindi penso intendano Ada Wong. Quella meno giocabile è sicuramente Ada Wong. Quale di queste case produttrici di auto non era presente in Gran Turismo? Allora, io escluderei Mitsubishi e Toyota essendo giapponesi e soprattutto me le ricordo. Direi Audi. Ah, ma base a cosa? Perché non me la ricordo l'Audi in Gran Turismo 1. Sheila the Kangaroo and Sergeant Bird the Penguin sono in quali di questi franchise? Spiro. Ah, quindi hai risposto tu. Imparappa no di sicuro. Eh, Spiro, è Spiro. Oddworld no di sicuro e Jax no di sicuro. Quale di questi franchise non è uscito sulla console? Assolutamente Kingdom Hearts perché è uscito per la prima volta su PlayStation 2. Qual era il nome del kit di sviluppo che permetteva di creare giochi fatti in casa? Net Yarose. Mi ricordo, me lo ricordo molto bene, sia per la console nera e tra l'altro in official PlayStation Magazine, se non vado errato, nel disco delle demo c'era pure una sezione Net Yarose. Ragazzi, è veramente difficile sto... Questo è difficile. Perché vabbè, noi vabbè, le sappiamo queste cose perché eravamo molto infognate. Può darsi che ci sia stato qualche errore da parte nostra. Sì, però voglio dire, è veramente difficile. Sì, possiamo mettere 100% impossibile nel titolo. Qual era il nome del protagonista di Ape Escape? Mike Spike. Spike, dai, questo è Spike. Lo Spike. No, no, vai Mona. Come che diceva quello? No, no, correte tutti e due. Qual era il nome dato al porting di Ridge Racer 2 su console? Allora. Renegades, vabbè, questo è facile. Ridge Racer Revolution. Perché era RRR, mi ricordo, anche se c'è anche Renegades, ma Renegades no, non c'entra niente. Ma Ridge Racer Revolution non era il 4? No, era il 2 su PlayStation 1. Perché Ridge Racer 4. Come si chiamava il 4? Ridge Racer Type 4. Vero, io lo amavo, ragazzi. Ero pazza di Ridge Racer Type 4. Comunque, Ridge Racer Revolution. Qual è stato il gioco più venduto della storia su PlayStation? Allora, questo è veramente difficile perché sono tutti titoli... Che hanno stravenduto, ragazzi. Best Sellers, no? Ok. Allora, per me è difficilissima, non lo so quale di questi è venduto. Però, allora, Crash Bandicoot 3, Warped, perché proprio Crash Bandicoot 3? Tomb Raider 2 io tenderei ad escluderlo perché è stato multipiattaforma, nel senso che è stato anche su PC. Final Fantasy 7 o Gran Turismo? Allora, l'immagine qui è di Final Fantasy 7. E se ci vuole fottere? Considerando che sono sempre false quelle messe qua, forse è Gran Turismo. Sì, ma questa andiamo più a cuore. Pepe, 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 quindi 100% impossibile. Ragazzi, nonostante... Ma non mi aspettavo di fare 100%... No, no, anche perché, ragazzi, tante cose, tipo quella di Wipeout, non la sapevo, quella del team di Wipeout. E quella di Lara Croft, la doppiotrice. Abbiamo anzaccato? Hai anzaccato anche questa. Adesso, ragazzi, voglio vedere che è Camilla Ludington, perché secondo me è una modella. Ok, ti sponde la Pornostar. Eh, vedi che è la modella? Ah, però... Ah, no, lei ha fatto la modella per la nuova Lara Croft. Ah, allora, ti ricordavi bene. Ecco, sì, ecco, sì. Però un po' confusa, anche perché è giovane. Noi vi ringraziamo. Vi ringraziamo, mi raccomando, suggeriteci dei quiz, anche se alla fine li troviamo sempre noi. Prima o poi ci fotterete con un quiz veramente difficile. Questo, questo, ragazzi, questo era difficile. Era difficile, però sulla prima PlayStation, ragazzi, siamo molto ferrati, perché è stata una console... Sonari. Abbiamo vissuto tantissima. Si, ha fatto parte proprio della nostra formazione videoludica, forse è molto più di tante altre console. Noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Con altre foto di Camilla Ludington. Fatto, fatto.